Ciao amici di Men Wow, benvenuti! Oggi parliamo di bricolage, ovviamente di semplice bricolage con questo prodotto che si chiama Patex Renew per sigillature come nuove, il cui utilizzo è nato dall'esigenza di porre fine e di rimediare a quella situazione veramente seccante che si era creata negli ultimi tempi quando facevo la doccia, al termine della quale c'erano cupiose fuoriuscite d'acqua dai bordi della stessa. Inizialmente non riuscivo a capire quale fosse il problema, ho contattato l'idraulico, ma come sapete l'idraulico ormai sono così importanti, quasi come il Presidente della Repubblica e il Papa, che è difficile reperirli, oltre che quando li chiami ti presentano dei conti troppo salati per essere giustificati per quanto mi riguarda. Quindi mi sono un attimo ingegnato, dato meglio un'occhiata e ho visto che queste perdite di acqua venivano, erano dovute al fatto che il silicone precedentemente messo si fosse ormai deteriorato e che quindi era non più, non garantiva più l'impermeabilità dell'acqua che questa invece usciva e veniva fuori. Quindi ho fatto un po' di ricerche in internet e ho trovato questo prodotto veramente consigliato, è venduto su Amazon, ma potete trovarlo anche in qualsiasi ferramento, negozio specializzato, che devo dire per 6 euro e 50 mi ha risolto il problema, che se ovviamente avessi chiamato un idraulico mi avrebbe chiesto almeno dai 30 e 50 euro per risolvere questo problema. Che è successo? Ora vi faccio vedere. Bene, devo dire non è facilissimo da applicare perché ovviamente per chi non ha la mano esperta come me, ovviamente ci sono delle sbavature. Allora si ha creato il problema proprio, come vedete, da questa parte qui. Ora è bianco perché il prodotto ha questo colore, questa colorazione bianca. È stato e bastato semplicemente stenderlo lungo tutta questa parte qui, come vedete. Non so se riuscite a vedere bene l'inquadratura. Perdonate, è un po' sporca la doccia perché ovviamente l'ho manipolato da poco e quindi devo perfezionare il tutto, devo ripassare e pulire tutto. Però da questi bordini qui, come vi sto indicando, usciva tantissima acqua che ovviamente bagnava tutto il pavimento. Bene, l'ho applicato, bastavano solo sei ore di posa e voilà, ho rifatto la doccia. E come per magia, nessun problema. Tutto ok, tutto risanato e messo in ordine e a posto. Quindi vi consiglio, piuttosto che spendere così tanti soldi per idraulici, non fatelo voi, queste piccole operazioni fatele voi, prendetemi un attimo di fastidio, però già vi indico il prodotto molto buono, ce ne sono anche di altre colorazioni, però quella bianca era la più carina e quindi va a coprire tutte le sigillature senza la necessità, attenzione, di rimuovere quelle vecchie che già c'erano. Quindi, amici di Menuao, questo è un ottimo consiglio per il Fedatè. Qualunque sbavatura, ma si può applicare anche intorno ai lavandini, intorno al bidet, intorno al water, qualora ci fossero delle perdite o fosse necessario risigillare e ripresentare nuove sigillature a riguardo, affidatovi a questo prodotto, la mia esperienza è stata molto positiva. Un abbraccio amici di Menuao, a presto!